allora alla fine la storia di un'immagine sconveniente di matt riddle diffusa sui social nella giornata di lunedì pare proprio che fosse vera in essa il bro da quanto ho capito si diverte a elicotterare le sue vergogne ma potrei sbagliarmi nel senso che vado ad intuito seguendo quanto ho letto in giro ma da dove arriva questa foto stando ai siti americani sarebbe stato proprio riddle a spedirla a qualcuno con snapchat un programma che permette di inviare messaggi che poi si cancellano automaticamente in 24 ore esistono però modalità specifiche attraverso le quali salvare lo stesso i contenuti ricevuti malgrado i limiti imposti dall'applicazione che in realtà non è fatta per permetterti tutto questo dunque è ragionevole ritenere che uno dei contatti a cui il wrestler ha spedito lo scatto l'abbia poi diffuso nelle modalità non desiderate dal bro diventando di pubblico dominio quanto accaduto non dipende quindi dalla volontà di riddle che potrebbe anche ricorrere alla giustizia aprendo una causa legale qualora sapesse il nome del colpevole resta tuttavia in dubbio come ancora una volta l'ennesima aggiungerei il combattente si trovi in guai che poteva evitare e che partono da azioni di cui si poteva fare a meno visto anche il lavoro che svolge e la popolarità di cui gode ovviamente il nuovo caso che è scoppiato addosso al bro ha portato l'ex fidanzata di matt riddle ad alzare la voce sul web invitandolo ad andare in terapia stavolta non per problemi legati alle droghe ricreative ma per essere un malato di sesso la ragazza ha anche suggerito a colei che l'ha sostituita di tenere il suo cagnolino al guinzaglio e si è riferita a riddle con l'appellativo di predatore sessuale ora al di là della cacciara social di cui stavolta non è del tutto colpevole io credo che matt debba capire che sulla sua vita privata deve mettere dei limiti di riservatezza sono ormai anni che al centro di continue voci polemiche e drammi pubblici e federazioni come la wwe alla lunga possono anche decidere di negarti certi obiettivi perché ti si associa ad un'immagine non del tutto positiva anzi chi gli vuole male sta ora cercando chiaramente di colpirlo proprio su quel nervo scoperto per questo il wrestler dovrebbe evitare ogni abitudine potenzialmente dannosa soprattutto quelle che per un motivo o per l'altro potrebbero sfuggire al suo controllo come accaduto appunto un paio di giorni fa quanta pubblicità ci vediamo come fan di wrestling mentre assistiamo ai nostri show preferiti beh il war sports network ha provato a stabilire una statistica basandosi su un fan medio americano credo inserendo tra le variabili un'aspettativa di vita ragionevole e una certa fedeltà al prodotto orbene stando ai calcoli effettuati ogni spettatore si beccherebbe 278.400 minuti di reclam ovvero 4640 ore che in soldoni sono più di 193 giorni per divertirsi con gli eroi del ring è comunque una tassa ragionevole da pagare o no intervistato da metro ma se ha rivelato che in passato la wwe aveva pianificato per lui un personaggio a metà tra il mercenario cyberpunk il cacciatore di taglie e un aguzzino per questo alter ego vennero anche concepiti dai disegni preparatori che prevedevano tra l'altro la comparsa di un ascia e di un cappuccio vagamente classificabile come quello di un boia moderno poi improvvisamente tutto è finito nella spazzatura e si è preferito puntare sulla gimmick del modello che al momento fa parte del gruppo noto come maximum mail models amici se le mie rubriche vi piacciono sostenetele iniziando i vostri acquisti su amazon partendo dalla mia vetrina vi lascio il link nella descrizione del video basta che iniziate le vostre ricerche da questa pagina e mettiate i prodotti nel carrello partendo da qui a voi non cambia nulla non pagate niente di più e a me arriva una piccola commissione in base a quanto comprate non siate pigri ricordatevi di farlo in un recente episodio del suo podcast road dog jesse james ha rivelato che la pressoché totalità dei dirigenti wwe di allora spinse per un passaggio tra i cattivi di roman reigns subito dopo l'edizione 2018 di backlash evento nel quale il wrestler samoano sconfisse samoa jo davanti ad un pubblico ostile e annoiato vince mcmahon si oppose però all'idea convincendosi al grande passo soltanto nell'agosto del 2020 continuano ad aumentare gli show in cui è momentaneamente annunciata la presenza di roman reigns ora alla lista si è unito anche lo smackdown del 7 luglio che si terrà al madison square garden di new york in una recente intervista the rock ha rivelato come il wrestling l'abbia riavvicinato alla figlia simone attualmente in forza a nxt con il nome d'arte di eva rain l'ex lottatore ha ammesso che per inseguire la carriera aveva finito col trascurarla ma il desiderio della ragazza di ripercorrere le sue orme nella ring ha ricostruito i ponti caduti per via della lontananza ed ora il loro rapporto è più saldo che mai in una storia su instagram gg dolin ha scritto mi manca essere pk pk sono le iniziali del suo vero nome ovvero priscilla kelly per questo in molti stanno interpretando il messaggio come un sintomo di malcontento che potrebbe fotografare la sua delusione attuale dopo la fine delle toxic attraction infatti gg è rimasta lontana dai main event e adesso l'è stata cucita addosso la storia di una ragazza a caccia di riscatto dopo un'adolescenza bruciata al fianco di una famiglia tossica e per niente amorevole una vicenda che però non è sembrata fare particolarmente breccia tra i tifosi e che non l'ha nemmeno avvicinata al titolo femminile del brand dei giovani